Il progressivo aumento dei costi di produzione e la pandemia ha provocato negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2022, la chiusura di molti allevamenti in provincia. Soprattutto nell'Alta Padovana hanno chiuso i battenti 150 allevamenti di vacche da latte. Questo dato è emerso da una ricerca sul comparto lattiero caseario effettuato da Cia Padova, presentata alla vigilia della 428esima Fiera Franca di Cittadella, nota per le esposizioni delle migliori eccellenze agricole e del bestiame. Oggi gli allevamenti padovani certificati sono poco più di 2.500 per complessivi 145.000 capi. Il fatturato anno a livello provinciale supera gli 80 milioni di euro. Gli effetti del Covid e ora dei rincari dell'energia elettrica però hanno già messo capo centinaia di imprese. Per far fronte alla situazione emergenziale, gli allevamenti padovani e veneti hanno ridotto di quasi 2% la produzione di latte, nonostante la domanda di mercato sia addirittura aumentata. Le nostre imprese hanno bisogno di liquidità immediata, altrimenti si rischia il tracollo, ha detto il direttore della Cia Maurizio Antonini. Fra le possibili soluzioni prospettate proprio dalla Cia, l'attivazione di prestiti agevolati o di indennizi diretti alle aziende più in difficoltà.